Le riforme non bloccheranno il processo di Berlino, e cioè l'adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione Europea. Con queste parole la cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiuso il vertice ospitato nella città polacca di Poznan. Il sesto incontro dal 2014, dopo quelli di Berlino, Vienna, Parigi, Trieste e Londra, per definire meglio la roadmap dell'integrazione. Non considero le riforme come un abbandono dei negoziati di adesione. È noto che il processo è molto lungo e quindi abbiamo abbastanza tempo per pensare al tipo di cooperazione. Per me questa non è una contraddizione. Il processo di Berlino è un'iniziativa avviata dal governo tedesco a sostegno della prospettiva di integrazione europea dei paesi della regione, favorendo il dialogo e la collaborazione regionale, in particolare in campo economico e sociale. Sono fermamente convinto che questa integrazione avrà presto esito positivo, ha detto il premier polacco Morawiecki, e che questi paesi saranno accolti nell'alleanza dell'Unione Europea. Nella foto di famiglia dell'incontro di Poznan non figurano leader italiani, fuori dai giochi dello scacchiere balcanico. Presenti invece oltre a Merkel il premier francese Philippe e la collega britannica Theresa May, insieme ai referenti dei paesi balcanici.